Sabato 23 febbraio alle ore 10 presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità in località Montesani a Vallo della Lucania verrà presentato un report contenente i dati della raccolta dei RAE nei comuni del Parco del Cilento e sarà illustrato il progetto di sensibilizzazione collettiva dal titolo Riciclare i RAE alleggerisce il pianeta per un parco differente, messi a punto dal lente parco per migliorare la raccolta differenziata, aumentare il recupero delle materie prime e salvaguardare l'ambiente dall'abbandono degli apparecchi elettrici ed elettronici. L'iniziativa principale consiste nella distribuzione nei comuni di un dépliant informativo che spiega con un linguaggio semplice cosa sono i RAE e qual è il giusto modo di gestirli suggerendo una serie di comportamenti da seguire.